Cambio della viabilità a Gallarate, si parte. L'inversione del senso unico di via Mazzini e di via Postporta, già annunciata a fine estate, prende il via oggi e dopo una fase di sperimentazione sarà seguita dal cambio di direzione in uscita in piazza Garibaldi, che avverrà anche da via Verdi. Un semaforo posizionato in via Roma permetterà l'accesso in via Mazzini per chi proviene da piazza Risorgimento. Gli studi fatti dallo studio di ingegneria, incaricato di valutare questa inversione di viabilità, erano positivi. Noi ci auguriamo che lo siano, perché è importante far tornare a vivere via Mazzini e sgravare un po' piazza Risorgimento e piazza Garibaldi di traffico. Dunque si entra in senso opposto in piazza Garibaldi? Sì, in piazza Garibaldi si potrà entrare sempre comunque da via Verdi, ma anche da via Postporta. Prima c'era solo una via di entrata e più vie di uscita, adesso ci saranno due vie d'accesso in piazza Garibaldi, ma verrà sgravata via Roma in piazza Risorgimento del traffico di tutti coloro che da nord arrivano e vogliono entrare in centro a Gallarate, che passeranno presumibilmente da via Mazzini. Ma cosa ne pensano i commercianti di via Mazzini? Alcuni sono favorevoli e credono che il passaggio di auto e dunque di potenziali acquirenti in entrata verso il centro possa incrementare il loro lavoro. Perché magari siamo i primi negozi che si trovano quando si entra in Gallarate, quindi secondo me magari si sviluppano tutti i negozi che tendono a essere chiusi lì e quindi speriamo. Ora siete in uscita, quindi insomma le persone hanno già fatto shopping quando passano di qui? Adesso sì, invece adesso speriamo che trovando i primi parcheggi qua inizino a entrare in Gallarate dalla via Mazzini. Io penso che sia una cosa positiva, si vedrà, io penso che tutto sommato potrebbe portare un pochettino più di movimento, potrebbe portare un po' di gente in più in centro che male non fa assolutamente. Qualcuno invece storce il naso e si dichiara perplesso. Per ora non la condivido, però mai dire mai. Perché non la condivide? Crede che ci sia poi troppo traffico in entrata? In entrata e anche in uscita, cioè più che altro in uscita secondo me. Quando si sarà il discorso di via che usciranno da via Verdi, secondo me ci sarà un intrasamento pazzesco lì. Grazie. Grazie.